Come è stata accorta questa nuova riorganizzazione del mercato? Tecnicamente è bene, basta guardare dietro quanta gente c'è questa mattina, aiutati anche da questo meraviglioso sole. Diciamo che c'è più gente in quest'area del food rispetto al mercato vero e proprio. Sappiamo che questo può creare degli svantaggi agli operatori nel breve tempo, ma nel medio e lungo periodo secondo me troveranno la giusta collocazione. Piccole incongruenze riguardo il disco orario qui nell'entrata del mercato della frutta e verdura, oppure come chiederemo che venga nel parcheggione, il nuovo parcheggio che c'è di fianco al cimitero, venga portato il disco orario almeno a due ore nel giorno del martedì, per evitare che chi parcheggia il camper tutta la settimana o chi va in centro, almeno per quel giorno, dia la fruibilità dei parcheggi per chi deve venire a fare la spesa al mercato. Io mi trovo molto bene, l'ho ritrovata subito la via banca, quindi per me va benissimo. È più raccolto e si trova meglio prima quello che serve. Secondo lei è una mossa vincente per gli ambulanti? Secondo me sì, però io acquisto, non so se per gli ambulanti può essere comodo, però il mercato un pochino più raggruppato è meglio. A me piaceva più di là, perché arrivavo con la bici ed era più semplice. Per me è meglio così, molto meglio. Per quale motivo? Perché si esce dall'altro cosa, si viene qua, invece prima bisognava fare tutta la salita, andare su, per noi anziani, meglio così. Per me qui fa schifo. Per quale motivo? Perché si è mucchiato tutto, c'è una roba lì, una roba lì, una roba lì, una roba là giù, non trovi più niente. Là per me era molto meglio, però questa è un'opinione mia. Ormai è meglio qua. Perché lei abita qui vicino forse, allora non è meglio qua signora, lei giri bene. Lei cosa ne pensa? No, per me va benissimo. Per quale motivo? Uno fa il giro qui e poi viene a fare la spesa. Posto. Per quale motivo?